Il molo di sottoflutto del porto di Agropoli sarà intitolato a Biagio Vanganelli. Lo hanno deciso il sindaco Adamo Coppola e l'intera amministrazione comunale. La cerimonia si svolgerà martedì 20 luglio, a due anni dalla sua morte, avvenuta in mare in circostanze tragiche quando aveva solo 16 anni. Il programma della manifestazione è il seguente. Alle ore 18, esposizione modellini di barche a vela presso il molo di sottoflutto del porto. Alle ore 19 e 30, scoprimento lapide e intervento delle autorità presenti. Alle ore 20, Santa Messa, ufficiata da Don Carlo Pisani. È prevista inoltre la partecipazione dell'orchestra del liceo Gatto, che dedicherà alcuni brani al giovane che frequentava la sezione musicale dell'Istituto Agropolese. La scomparsa di Biagio Manganelli, afferma il sindaco Adamo Coppola, ha lasciato un vuoto profondo in tutta la comunità. Ragazzo creativo, appassionato di vela, era timoniere laser. Amava molto il mare e il porto, era uno dei luoghi dove preferiva recarsi. Da qui la scelta di intitolargli il molo di sottoflutto. Un piccolo gesto, ma ricolmo, di grande significato.